Assessore Fanesi, ci sono novità per quanto riguarda le scogliere di Metauriglia? Ci sono novità, direi molto positive per la città di Fano, per l'abitato di Metauriglia, per gli operatori balneari della zona perché abbiamo affidato, dopo una gara pubblica che si è conclusa proprio in queste ore, abbiamo affidato i lavori per la realizzazione delle scogliere di Metauriglia alla ditta Slimar, l'importo dei lavori è 8 milioni, quindi è l'investimento più importante che abbiamo fatto sulla difesa della costa nella città di Fano negli ultimi anni nonostante ne abbiamo fatti diversi, che si uniscono ai 4 milioni già spesi per interventi realizzati a Metauriglia dalla foce del Metauro a scendere verso sud quindi per un intervento totale di 12 milioni di euro che andranno a coprire, chiudere un tratto di spiaggia che parte dall'hotel Playa e arriva fino alla foce del Metauro proteggendo la nostra costa, valorizzando le nostre coste e aprendo la strada anche ad una migliore valorizzazione del litorale in quella zona perché pensate che insomma sono quelle che stiamo facendo 1500 metri di scogliere e quindi proteggeranno appunto la costa e la renderanno fruibile anche ad un uso diverso più indirizzato al turismo perché adesso attualmente di fatto la spiaggia non c'è Quando inizieranno i lavori Assessore? Sicuramente i lavori inizieranno nel mese prima dell'estate, in primavera e si concluderanno ovviamente con una sospensione per la stagione estiva e riprenderanno in autunno però noi contiamo di poter iniziare subito in maniera molto veloce, in maniera tale da poter dare risposte chiare, effettive per la difesa della costa fin da quest'estate Assessore, Ponte Sasso è ancora un po' sguernita, ci sono delle concessioni balneari che si trovano in difficoltà Lì ci sono provvedimenti? Ponte Sasso non è sguarnita perché le scogliere già ce l'ha, purtroppo quelle scogliere non funzionano mentre a Metauriglia parliamo di scogliere che non esistono, a Ponte Sasso parliamo di scogliere che nel tempo hanno perso la loro funzione principale quella di difendere le coste dal mare Per effettuare questa operazione di ripristino della funzionalità delle scogliere ovviamente servono investimenti molto importanti investimenti molto importanti che o ci arrivano dal PNRR o ci vengono dalla Regione Marche perché il Comune non può provvedere qui si parla di milioni di euro come se fossero noccioline ma sono milioni di euro che il Comune di Fano ovviamente non può mettere a disposizione Per cui abbiamo inviato già il progetto come d'accordo anche con gli operatori balneari e in Regione Il progetto prevede la risagomatura di diverse, almeno tre setti di scogli che non adempiano al loro ruolo e per risagomare ovviamente servirà anche una cifra ingente tenuto conto anche degli ultimi aumenti dei prezzi legati anche al gasolio eccetera Quindi la parte del Comune di Fano è stata fatta, il progetto a cui abbiamo investito risorse in termini anche di tempo e di lavoro è stato fatto ora manca insomma i soldi per poter portare i massi a difesa anche della costa di Ponte Sasso Grazie